Superman ha picchiato Supergirl, sua cugina. Combattiamo insieme, come ai vecchi tempi. Entrambi sapevamo che sarebbe finita così. Ricordi la notte che mi confidasti che Lori sarei incinta? Avevi capito, ancora prima che parlassi. È un bel ricordo. Ma di un'altra vita. Ho nostalgia di come eravamo. Sta per iniziare il finale giustizia assoluta. Se Batman vince, ci guarderemo finale giustizia assoluta tutti insieme. Ma renditi, Bruce. Non puoi vincere. Ormai dovresti saperlo, Clark. Io non mi arrendo mai. Batman non si arrende mai. Io vi saluto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ricordatevi una cosa. Se Batman vince, ci guarderemo tutti insieme in finale giustizia assoluta di Injustice 2 in questa modalità storia.